La Casa Bianca chiederà formalmente al Congresso americano di sbloccare inizialmente una somma pari a 5,9 miliardi di dollari per assicurare il sostegno economico necessario alle zone devastate dal passaggio dell'uragano Harvey. 100.000 case sono state danneggiate dalle inondazioni che hanno messo in ginocchio parte della regione sud-est del Texas dallo scorso venerdì. Saranno almeno 100.000 le case colpite, alcune saranno assicurate per le inondazioni, altre non le copriranno e altre ancora saranno del tutto prive d'assicurazione. Dovremmo quindi analizzare caso per caso, inoltre ci saranno le infrastrutture pubbliche danneggiate. Sale ancora il bilancio delle vittime, sarebbero almeno 38 le persone decedute a causa delle alluvioni, mentre ci sarebbero diversi dispersi e oltre 30.000 sfollati. Harvey, declassato a tempesta tropicale, intanto si è spostato verso la Louisiana. Ancora sotto osservazione, infine, l'impianto chimico della società Arkema, situato nella cittadina di Crosby, alle porte di Houston, dopo le due violente esplosioni verificate si giovedì.